Adrian, un bellissimo compleanno, davvero, forse uno dei più bei compleanni insomma, come festa devo dire che è riuscita. Sì, è una bellissima manifestazione, sono contento di tutto questo, c'è stato anche abbastanza gente, sono contento, vuol dire che dai, che ho lasciato qualcosa, loro mi hanno lasciato qualcosa, è stato veramente fatto una cosa in grande. È stato in assoluto il miglior giocatore, ma il miglior giocatore è perché l'ha dimostrato in campo e perché ha fatto divertire veramente chi veniva allo stadio a vedere la partita, compagni compresi. Io personalmente, ma credo di essere la voce di tanti che hanno giocato con Adrian, lo ringrazio perché personalmente mi ha reso più forte di quello che ero. Com'è stato in quegli anni in Rimini? Nicola, un libro che racconta Adria Ricchiuti a tutto tondo, a 360 gradi. Sì, racconta Ricchiuti bambino, Ricchiuti uomo, Ricchiuti calzatore e in diversi aneddoti anche la persona che è fuori dal campo, soprattutto attraverso il ricordo di chi l'ha vissuto come compagno di squadra e come calzatore, perché poi ne parlano i suoi allenatori riminesi e non, ne parlano i vecchi compagni, lo racconta bambino suo papà, lo racconta il procuratore che l'ha portato, il direttore sportivo che l'ha portato a Rimini e ne traccia un'identichita anche Fabio Caressa che l'ha visto solo dall'altra parte della telecamera. Adria, ormai, Francia lo conosco a tutti, è il numero uno, io l'ho conosciuto dal primo giorno di ritiro, ero in camera con lui quindi sapevo che era il numero uno e me la confermai. Tanti ricordi, tanti aneddoti anche raccontati questa sera? Sì, tante piccole cose, diciamo che il libro è stato raccontato non tutto calcisticamente perché il rischio che l'ergassolo e quindi è stato raccontato un po' di cose, adesso la gente lo leggerà il libro, secondo me sarà un bel libro e spero che piaccia e Nicola ha fatto un grande lavoro, sono veramente felice per lui perché è stato il suo primo libro e spero che in futuro possa fare altri libri così belli. Adria! Ricchiuti! Uno a uno! Ha fatto tutti più forti e probabilmente quel gruppo lo ha reso molto più forte anche di quello che eravamo. Grazie Adria. Raccontaci un aneddoto di questo libro. Ma di aneddoti che ha raccontato Adria ce ne sono tanti, carini, mi piace ricordare visto che poi c'è stata qui che ci ha fatto l'onore Leglia a Bella Vista di venire qua a Rimini, lui racconta di questo rapporto straordinario che aveva con il grande patron, non ha mai firmato un contratto, non ha mai dovuto portare un procuratore a Longiano, Bella Vista andava al campo, gli diceva Adria tu resti con noi, non gli diceva neanche quanto vuoi, gli diceva da quest'altro anno prendi questo. Adria racconta questo rapporto straordinario con un aneddoto che non credo molti sappiano e durante un Rimini-Vispesor in C1 in un'azione da calcio d'angolo si mangia un gol, Bella Vista disse qualcosa dalla sediolina in cui quelle poche partite che guardava direttamente stava osservando il match e quando Adria gli rispose il grande patron gli tirò la sedia, gli tirò con la famosa sedia, poi Adria finita la partita lo chiamò per scusarsi ma Bella Vista gli disse subito non ce n'è bisogno, tu sei il mio quarto figlio e siamo a posto così. Sono un bambino, il mio nome è Sebastiano, Ricchiuti, non ho finito, non c'è bisogno, comunque risate a parte, vi chiedo a parlare. Il tuo papà com'è? Ha avuto un infortunio, non giochi più, perché non giochi più, si è stirato la gamba, tipo penso non lo so al piede, vabbè qualcosa? Ciao, buonasera, 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 buon papà. E auguri a mio papà che non c'è sia il tuo rinclano, che non c'è il tuo rinclano, che non c'è il tuo rinclano. E poi vorrei dire un'ultima cosa, comprati il libro e le magliette. Qual è il tuo capitolo preferito? No, ma io penso, guarda, nel libro parla anche mio papà, ha raccontato tante cose che non sapevo e adesso le potrò guardare sul libro. Ma sono tutti belli, io dico come il primo gol che ho fatto a Rimini fino all'ultimo, sono tutti capitoli belli. Io Adelano l'ho visto in campo sempre con il sorriso, è una cosa bellissima. Ve lo posso garantire che vedere un allenatore con il sorriso è la cosa più bella. E alla fine il taglio della torta, insomma credo sia davvero un abbraccio della città, è venuto anche il sindaco, insomma davvero tanto affetto attorno ad Adelarecchiuto. Sì, a volte uno non ci fa caso, però vedere tante persone che sono venute apposta per la presentazione del libro ti fa capire che hai lasciato qualcosa a queste persone e loro hanno lasciato qualcosa a me. Quindi sono veramente orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare con i miei compagni e quello che ho fatto io. Devo parlare di ieri o di oggi, di domani, di cosa? C'è un grande film ieri, oggi e domani, vediamo di riassumerlo rapidamente. Allora, io penso che Adrian abbia attraversato la fase più bella della storia dei Rimini, no? Gli anni più belli in assoluto. E vado velocissimo. Mi auguro che visto che è rimasto con noi, rimarrà con noi, che con noi possiamo vivere altri anni felici come quelli che abbiamo vissuto fino adesso. Grazie a tutti. Adesso un futuro da team manager, ma anche una Champions League che ti aspetta proprio tra qualche giorno. Io faccio l'appello a tutta la gente del Rimini di venire allo stadio a darci una mano perché secondo me sarà una partita che possiamo passare il turno e per il calcio sanmarinese potrà essere una cosa eccezionale. Auguri, Adrian. Grazie mille, grazie a voi.